Continuiamo un po' l'esplorazione del mio EDC della settimana con il Tasmanian ID Wallet. Questo è un portafogli con scomparto speciale per i tesserini di riconoscimento. Ormai ogni settimana sto provando dei portafogli nuovi, ma questo è anche per raccontarveli con un po' di esperienza del prodotto sul campo, altrimenti ad escriverlo si fa presto, però non avrei nulla da dirvi. A volte ragazzi ci serve un portafogli tosto che ci consenta anche di mostrare velocemente un tesserino di identificazione. Pensiamo a chi deve accedere a particolari edifici dove c'è un tesserino, oppure semplicemente anche a chi possiede un abbonamento di un mezzo di trasporto pubblico o una cosa del genere. Qualcosa da mostrare al volo senza dover smontare sempre tutto l'EDC. Anche se avete uno di quegli abbonamenti contactless, volete solo poggiarlo per vidimare il biglietto o quello che è, ecco magari su quella tessera ci sono impressi dei dati che volete magari tenere riservati. E allora prendete un bigliettino da visita qualunque come questo di Backpack.it e lo mettete sopra il tesserino. Il pagamento, la vidimazione, il riconoscimento attraverso radiofrequenze funzionerà lo stesso. Ma nessuno può leggere facilmente quello che c'è scritto. Questo ragazzi è un portafogli di sicuro solido e ben fatto come ci ha abituati Tasmanian. Sul davanti c'è una tasca per gli spiccetti. Non è troppo capiente ma ci stanno quelli che devono. Ecco i soldini del carrello o quello che magari vi può servire al volo. Non ci starà tutta la dotazione per la tombolata però dai. Zip YKK che scorrono che è un piacere. All'interno si apre con questo velcro generoso. Guardate che diavolo c'è. Ci sta di tutto. Vi faccio notare prima questo scomparto per varie sim, schede di memoria eccetera perché non lo vediamo in tutti i portafogli. Poi blocchettino Right in the Rain. Addirittura ci va un passaporto. Non è che io lo porti sempre per farvi vedere che ci sta. e ovviamente scomparto trasparente per una patente, per un'altra card che volete mostrare. Dietro lo scomparto trasparente c'è tutto un altro taschino invece segreto che sta qui dentro. E diverse tasche, anzi vi dico pure quante, una, due, tre, belle capienti per bigliettini da visita e tesserini. E' un po' strano questo portafoglio perché ha tutto uno scomparto che non è tanto dedicato ai soldini quanto a eventuali ricevute, cartuccetti, varie cose che dovete portare. I soldini veri, il malloppo grosso lo potete sistemare qui dentro dove senza problemi e in sicurezza ci sta. O potete dividere un po' la dotazione finanziaria. E' realizzato tutto in cordura 700 denari, trovate poi su backpack.it le caratteristiche ancora più tecniche, ma è sicuramente il portafogli di chi desidera, di chi ha la necessità di mostrare velocemente un tesserino. E' proprio questa la parte fondamentale di questo prodotto. Chiaramente va benissimo a tutti quelli che amano degli oggetti tosti e duraturi e questi portafogli piuttosto stretti che magari stanno bene anche in tasca, ma nelle borse, nei borselli, ancora meglio. Se siete alla ricerca di un portafoglio, beh, date un'occhiata a tutti quelli che abbiamo. Vi lascio i link in descrizione e vi ringrazio per essere stati con me. Ah, non dimenticate di iscrivervi al canale qui sotto e schiacciare la campanella. Lasciatemi anche un bel like se questo video vi è piaciuto.